perchè è troppo fuori mi ha detto di venire qua vieni qua eccolo allora fammi vedere un tecollo te... ahahahahah così non lo fai di vista è un atterraggio un atterraggio musato ahahahah ahahahah ahahahahah via verso la coda verso la coda Ahahahhahahhahahahahhahahhhahahahah Ebbvio... Oh, facciamo spieglerlo, questo Guarda la nuova, questa è la nuova, nuova